Salve a tutti, sono Gianfranco Marini benvenuti alla bottega didattica oggi ci occuperemo di Google Google è un'applicazione web premium, la versione base è free e serve per costruire mappe concettuali diagrammi questa è la pagina iniziale di Google si scrive in questo modo e questa è l'indirizzo quindi molto semplice cosa si può fare con Google? si possono fare mappe di questo tipo questa è una mappa molto complessa realizzata con Google come potete vedere queste sono comunità testi si va dalla medicina l'ecologia e così via come vedete è una mappa molto complessa molto colorata si possono inserire link non si possono inserire elementi multimediali tuttavia può essere molto utile si può usare al volo sulla link per esempio durante la lezione oppure si può utilizzare far utilizzare i ragazzi così si abitano a strutturare a categorizzare un argomento e così via vediamo ora come fare a registrarsi su Google è molto semplice basta cliccare in questo tasto e come vedete non c'è bisogno di registrarsi e bisogna essere però registrati a Google io ho due profili su Google questo è il mio profilo principale la userò utilizzando il mio profilo principale questi sono i vari piani di Google come vedete il piano free è più che sufficiente per le esigenze didattiche gli altri prevedono magari una modalità di presentazione prevedono l'intera cronistoria delle operazioni che abbiamo fatto la possibilità di rendere privati i nostri diagrammi e così via quindi sceglieremo di continuare col piano free e questo è quello che ci apparirà sulla sinistra abbiamo un menu possiamo vedere che ci sono delle cartelle folder io ne ho creato due filosofie e storia possiamo crearne di nuove basta cliccare qui e inserire un nome della cartella ecco qua a questo punto possiamo entrare nelle varie cartelle ecco invece siamo fuori dalle cartelle per esempio posso spostare questa presentazione e questa mappa sofisti in filosofia semplicemente trascinando questa la portiamo qui posso ovviamente entrare di nuovo eccola qui Google non nominato privo di nome come vedete ho a disposizione per ciascuno di queste mappe un menu cliccando qui sulla sinistra posso inviarla a qualcuno o creare una copia o cancellarla come farò in questo caso ecco qua la mappa è sparita come è possibile creare una mappa bene lo posso realizzare una mappa o da qualsiasi cartella io voglia per me entro in filosofia clicco sul pulsante crea diagramma questa è la pagina di lavoro di Google appare la mano posso trascinare e muovere questo è l'argomento iniziale centrale come vedete a seconda di dove posiziono il mouse il puntatore del mouse compaiono delle frecce basta cliccare su una freccia per creare il primo argomento posso scrivere un testo e posso applicare alcuni elementi base di formatazione grassetto neretto il corsivo posso anche utilizzare un link cliccando fuori ecco la visualizzazione della mappa come fino a questo momento naturalmente cliccando qui ottengo altri nodi della mappa posso spostarli vedete posso spostarli completamente posso ingrandirli allungarli è molto pratico molto semplice da imparare clic to edit vuol dire che con un clic posso editare i vari nodi invece questo angolo mi permette di ridimensionare ingrandire o rimpicciolire queste sono le operazioni base per ottenere mappe come per esempio questa bene vediamo adesso alcune altre operazioni per esempio posso cambiare i colori degli archi delle linee che appunto unisco naturalmente posso anche ecco qua creare sotto nodi e così via posso cambiare i colori di questi archi per esempio mi posiziono sopra questa linea clicco col tasto sinistro del mouse mi compare una palette circolare e qui sono i vari colori e cambierò il colore dell'arco che ho selezionato e di quelli che dipendono da esso bene queste sono le principali operazioni cos'altro si può fare se mi posiziono sopra un nodo e clicco col tasto destro compare un menu un menu che mi permette di fare e di compiere determinate operazioni vediamo quali la prima è zoomare chiedo scusa mi è scappato il mouse dicevo clicco col tasto destro zoom non devo tenere cliccato altrimenti mi succede come prima ecco vedete molto semplice vediamo che altre operazioni posso fare posso cancellare adesso io non lo cancellerò o fare una copia posso trasportare guardate basta prima vederlo vedete posso collegare questo nodo ad altri nodi per esempio l'abbiamo messo qui trasciniamo qui che è più bellino vediamo ancora cosa posso fare posso aggiungere un nodo eccolo qua posso ancora inserire un commento se clicco qui comparirà vedete una sorta di chat per i messaggi una bacheca posso guardare un titolo io scrivo sempre pippo perché sono a corto di idee e qui scriverò il mio messaggio cosa mi sembra questa applicazione per esempio naturalmente quelli con cui ho condiviso questa mappa posso inserire vedete anche qui dei link eccetera possono anche chattare con me rispondere al mio commento aggiungere altri commenti e così via bene queste effettivamente sono tutte le funzioni di google possiamo provare a inserire un link vediamo che altro posso fare come vedete qui ho inserito un video adesso leviamolo vediamo come ho fatto per levarlo mi servo di questa funzione questa praticamente è la cronologia delle operazioni vedete torno indietro e sparisce sono ritornato a due minuti fa bene chiudiamo la cronologia vabbè è apparsa di nuovo e proviamo a inserire qui il video prendiamo scrivo entropia video seleziono video e clicco sul link ingrandisco per facilitare ecco qui dicevo clicco sul link e qui inserirò il link che mi sono procurato scusa mi è scappato di nuovo il mouse come vedete il mio video viene inserito lo sposto qui per renderlo meglio visualizzabile o allontano questi insomma perfetto posso ovviamente cancellare il video che ho inserito cliccando pericordate col tasto destro e cancello così cancelliamo anche questo cosa posso fare ancora per esempio voglio inserire un'immagine e posso farlo cliccando su un nodo scriverò entropia trasformazioni e poi vediamo dove ho l'immagine copio il link dell'immagine e qui lo inserisco basta cliccare fuori come vedete dal riquadro ed ecco qua adesso se clicco qui comparirà l'immagine che ho linkato quindi in effetti anche se non si possono incorporare i video e anche se non si possono inserire elementi multimediali grazie ai link si possono praticamente si può creare un percorso attraverso il web anche questo è molto interessante qui non ho messo neanche il titolo ovviamente va il titolo bene queste sono le operazioni che si possono fare adesso non resta che vedere queste funzioni la modalità di presentazione non dovrebbe attivarsi perché appunto voglio pagare 5 dollari al mese però posso condividere cliccando su questo pulsante ecco qua come vedete posso creare posso cliccando su questo pulsante quindi ripeto la procedura clicco su questo simbolo poi embed il codice per incorporare cliccando qui avrò un codice che posso copiare e incollare in un blog incollare in un sito in modo che venga incorporata questa mia mappa altrimenti la posso condividere su twitter o su facebook o su twitter questo è anche vedete adesso ho cliccato su facebook per poterla condividere non la condivido perché è chiaramente una mappa di prova una schifezza dove siamo torniamo ho perso un po' il filo bene qui chiaramente comparirà anche il link vedete non posso renderla privata ah si posso posso renderla pubblica in questo modo in questo modo non è pubblica posso anche scaricarla con quest'altro pulsante vedete posso scaricarla o come un file pdf o come un file png queste invece altre formati solo con la versione a pagamento uno degli aspetti più interessanti di google è invece un altro vedete questo più cliccando qui posso invitare altre persone che collaborano con me nella realizzazione della mappa quindi sono mappe collaborative e supportano anche una sorta di brainstorming vediamo quest'ultima funzione la visualizzazione delle operazioni che ho fatto molto utile se si fa un errore o se si vuole tornare a una visualizzazione precedente e i commenti cliccando qui vedete il menu questo è un menu che mi suggerisce i tasti per rendere più veloci le operazioni schiacciando prima il tasto di maiuscola più enter posso aggiungere un nuovo argomento bene questo è l'essenziale torniamo adesso chiudiamo la mappa e torniamo nella nostra pagina principale di google usando il pulsante google qui in alto a sinistra ecco qua abbiamo terminato possiamo uscire ci sono anche i parametri di configurazione in questo caso mi da semplicemente i vari piani di abbonamento bene vi saluto e alla prossima arrivederci